Ciao a tutti, sono Paolo di Mages of Lotus, benvenuti nella rubrica Keep or Sell e in questa puntata andremo a valutare tre carte che voi ci avete richiesto prima di cominciare però vi invito a lasciare il solito like sulla fiducia a attivare la campanella e se volete supportarsi maggiormente ad abbonarvi al canale vi ricordo che gli abbonati hanno la risposta prioritaria nel Keep or Sell allora la prima carta sono le api assassine che ce l'ha chieste Alberto che è un abbonato quindi ringrazio, ringraziamo e ce l'ha chieste nello specifico dell'edizione leggende italiano condizione ex allora come possiamo notare non ci sono troppe coppie da ex o near mint di questa carta ma in generale insomma di carte così vecchie è difficile trovare un buon numero di carte ex allora a mio avviso essendo leggende un'edizione comunque ricercata molto dai collezionisti meno chiaramente della versione in inglese però comunque è un'edizione ricercata e secondo me nel corso del tempo anche appunto questa versione quindi italiana sarà più cercata e io penso che questo sia un Keep io la terrei e secondo me non vale la pena venderla a 5-10 euro tra l'altro è rara se non sbaglio sì è rara e credo che ci saranno altre speculazioni riguardo a queste carte vecchie non solo alla Reserved List questa non è una carta di Reserved List che ha ricevuto molte ristampe però chiaramente la versione di leggende ha un qualcosa in più dovuto puramente al valore collezionistico non si gioca questa carta non si gioca neanche in Premodern ho guardato un po' le liste e non mi pare di averla notata e a mio avviso comunque Alberto questo è un Keep se proprio volessi venderla secondo me almeno 15 euro ma io francamente la terrei è rara è rara di leggende ce l'hai ex non ce ne sono molte io la terrei la seconda carta è Bruvac e ce la richiede Luigi Junior sotto ciò i vostri nomi Sbircio e allora questa carta è molto giocata in Commander o meglio è giocata solo in Commander e non solo però come comandante ok qui vediamo dei dieci ci sono dieci mazzi in cui viene giocata e sicuramente sarà giocata in più mazzi ma insomma MTC Goldfish mette insomma qualche dato anche perché essendo il Commander un formato che si gioca tranquillamente a casa for fun è impossibile avere diciamo un registro una banca dati con tutti i deck che giocate che si giocano allora secondo me comunque quindi questa carta allora è un lo dico subito è un Keep a 30 euro un Keep le copie disponibili sono poche sono 180 di Jumpstart e 40 di The List e perché dico che è un Keep allora Mill è una meccanica che piace ha una buona fetta di giocatori questa è la miglior carta o comunque una delle migliori carte per abusare di quella strategia il Commander appunto è il formato più giocato quindi secondo me è una tema cioè è una carta da tenere anche perché comunque carte che faranno che millano l'avversario ne stamperanno altre quindi questo potrebbe essere un comandante che sarà ipato da ipotetiche nuove ristampe di scusate ipotetiche nuove stampe di carte che millano ristampa di questa carta non la vedo non la vedo così probabile perché comunque ha un effetto molto specifico e vabbè certo ci sono i Secret Lair però sì nel Secret Lair possono ristampare di tutto tutto tranne quello che ciò che è in Reserved ovviamente quindi non non lo considererei neanche come fattore di ipotetica ristampa perché altrimenti sì staremo solo a parlare di Reserved List e non Reserved List poi l'ultima carta il burattinaio Gixiano ce lo chiede Biallo che è anche lui un abbonato quindi ringraziamo allora tu ci hai chiesto chi porse è il Biallo secondo me per carte per carte insomma col valore medio di 30-40 centesimi rare tra l'altro vendere non è mai un'ottima soluzione perché comunque insomma sono 30 centesimi cioè o hai comprato non so 100 copie a 10 centesimi e allora vabbè fai un per tre comunque parliamo di cifre basse però non credo che si trovassero che c'è che tu abbia trovato tutte queste copie di questa carta rara 10 centesimi quindi salvo questo caso che è molto improbabile secondo me non ha senso vendere queste queste carte quindi io riformulo mi permetto di riformulare la tua domanda e anziché keep or sell lo porto nella rubrica buy or not ovvero conviene comprare o non conviene comprare allora a mio avviso la carta ha un minimo di potenziale per il commander per la seconda abilità non so se ce ne siano già mi sembra di no ma potrebbero esserci venire fuori combo a tre carte quindi perché quando questa muore rimettiamo in gioco una creatura che costa tre o meno magari quindi con qualche altra creatura che ci fa sacrificare le creature e poi c'è un'altra un'altra creatura un incantesimo un artefatto che dice magari che quando sacrifichiamo una creatura possiamo stappare un artefatto insomma secondo me ci può essere questo un pezzo di una combo una combo tre o quattro carte parliamo di commander quindi non siamo proprio in super competitive perché chiaramente combat tre o quattro carte sono buone in commander negli altri formati no e comunque dicevo allora questa carta secondo me allora se parliamo della versione non foil a 30 centesimi o meno potrebbe essere un buon buy soprattutto magari tramite se avete modo insomma di non pagare le spese di spedizione o se riuscite a comprarne tante ok tante copie dallo stesso seller nella versione foil credo che dai 60 centesimi giù potrebbe essere anche questo un buon acquisto quindi sì questa diciamo questa è la mia opinione non vedo un utilizzo in pioneer in standard in modern meno che meno quindi questo è quello che penso io vi ringrazio se avete seguito fin qua vi invito a lasciare mi piace appunto ad abbonarvi se vi è piaciuto e volete supportarsi maggiormente e a continuare a seguirci commentate chiaramente mettendo i nomi delle carte di cui volete una valutazione o insomma commentate anche per rispondere a quelle che sono state le nostre opinioni vi ringrazio e buona giornata ciao